Dobbiamo giocare per trovare i tre punti, perché per noi sono fondamentali. Hai già fatto questa categoria, l'hai vinta, ricordo con la maglia del Sorrento, qual è il segreto per puntare in alto? Il segreto penso che sia l'umiltà, la forza del gruppo e la voglia di vincere e di arrivare. Francesco Ripa ha una certa somiglianza con il direttore generale Fabio Aureli, tra l'altro qualcuno diceva che aveva segnato Aureli domenica non Ripa. Sì, abbiamo tutti e due senza capelli, però penso che qualche volta può scendere anche lui in campo al posto mio.